Ed oggi ragazzi siamo in trasferta, come potete vedere, in uno di quei posti che sono un'istituzione per tutti gli audiofili e i musicologi, soprattutto del Nord Italia. Siamo al Planet Music a Reggio Emilia. Manu, nel 2022, dove si può fruire della musica digitalmente di tutto il catalogo che uno vuole, hanno ancora senso i negozi fisici di dischi, di supporti musicali? Allora, io ovviamente ti parlo della mia esperienza, sono 28 anni che siamo qua, ma soprattutto vedo quello che accade intorno a me. Io quello che penso di aver capito, e se si è esacerbata questa cosa dopo il Covid, la gente ha voglia di condivisione, e non condivisione sui social, che in realtà è una finta condivisione, ma la condivisione di venire in un negozio dove trovi il commentino sul disco che ti dice di cosa si tratta, perché finché sono i Le Zeppini di Purple, i Pink Floyd, diciamo i grandi cento nomi, non hai bisogno del posti del Planet Music. Esatto. Ma magari il pianista formidabile, Damian Dorelli, e lui è ovviamente di origine, penso, italo-inglese, però lui vive in Inghilterra, lui ha fatto un disco meraviglioso, Pink Moon, l'album di Nick Drake rifatto per piano solo. Io gli ho fatto una recensione pazzesca, lui si è commosso, mi ha mandato delle stampe con la dedica, e poi ovviamente io gli ho venduto un sacco di copie, esiste sia in CD sia in vinile, questa invece è la stampa con appunto la dedica. Questo secondo me è il senso del negozio fisico, il fatto di avere quattro impianti in cuffia, un po' proprio come i vecchi tempi. Certo. Che purtroppo non l'avevamo, cioè non l'avevamo, c'erano alcuni negozi che te lo lasciavano fare, però addirittura la full immersion, qua viene gente il sabato orario continuato, sta in cuffia 4, 5, 6 ore, e io sono solo contento. E' gente che ha capito il senso di venire qua, di leggere i commenti, di dire, ah bella questa cosa, questo album country, questo album folk, questo album prom, questo Jeff, fino a Miles Davis, a Chad Baker, a John Coltrane, ci arrivano tutti. Quando devi andare magari a spiegare la West Coast, vai a spiegare delle cose magari un po' più di nicchia, e questo parlo dalla musica sacra, fino al metal, la faccenda si complica un po'. Molto, molto, molto interessante, sono poi i posti, è bello perché la passione continua, che posti che tramandano questa passione, come cerchiamo di fare anche noi un po' con gli impianti, allo stesso modo, secondo me, sono discorsi molto interessanti. Ma ascolta, visto che siamo qui nel tuo negozio, che è un'istituzione, diciamo, no? Un'istituzione, dopo magari parleremo di quando è nato, come è nato. Iniziamo a vedere un po' come l'hai posizionato, come ci si lavora davanti al piano. La cosa fondamentale che io spiego subito è, noi abbiamo la pagina Facebook da cinque anni, io l'ho aperta su insistenza di una fetta della clientela che fortunatamente abita mediamente lontano, perché considera questo grande quadrilatero di cui voi fate parte, Reggio, Modena, Bologna e dall'altra parte Parma, con le rispettive province. Allora, tu vedi queste province sono super popolose, con un sacco di paesi, con una quantità di gente che suona, che canta, anche a livello amatoriale, che poi va benissimo, perché io da ex pianista professionista te lo posso garantire, non occorre stare a diventare, capito? Anche perché poi, voglio dire, solo pochissimi riescono ad emergere, ma farlo per te stesso, suonare, cantare, divertirti, ritrovarti con gli amici, anche a fare, capito, cinque pezzi ogni tanto, è il massimo della vita. In questo quadrilatero di cui ti parlavo c'è una quantità di gente veramente incredibile appassionata di musica, di tutti i generi, metal, southern, blues rock, country rock, folk, classica ovviamente Parma, la lirica. Io ho dei clienti ultraottantenni simpaticissimi, che vengono regolarmente a comprare la lirica, però anche il ragazzo Under 20, questa è la novità. Gli Under 20, gli Under 25, che magari fino a qualche anno fa qua si vedevano poco, le ragazze, le coppie, lui e lei, infatti perché abbiamo anche due impianti con le casse fuori, per l'ascolto in compagnia o di coppia, dove alla fine, devo dire, proprio le persone sono curiose, ascoltano e mettono sulle cose. La pagina Facebook nasce perché chi abitava lontano si sentiva sempre un po' di serie B, un po' tagliato fuori, perché quando arrivano, come la diretta che ho fatto giovedì scorso, 60 LP, originali anni 70-80, roba tipo Neil Young, Cross Bistination Young, gli Eagles, gli America, cosa ti posso dire, i Grateful Dead, c'erano i King Crimson, i Genesis, insomma, grandi gruppi, poi anche anni 80 belli, è chiaro che io faccio la diretta oppure faccio la foto alla pagina Facebook, nell'arco di 24-48 ore, siccome ti do questa possibilità di metterli via nel sacchettino a tuo nome e venirli a ritirare entro sabato, in questo modo anche chi abita lontano si sente parte dell'ingranaggio e lontagliato fuori. È molto bella la tua pagina perché crea un coinvolgimento, come cerchiamo di fare anche noi, per chi non lo conoscesse o magari non lo seguisse, la pagina si chiama Planet Music e ogni volta che fai un ritiro tu pian pianino metti fuori 50 pezzi, c'è la possibilità ovviamente di metterli da parte come dicevi, poi altri 50, altri 50, crea un coinvolgimento che secondo me è molto molto bello. Soprattutto perché io vi dico questo sinceramente, anche ieri ho ricevuto una telefonata di un cliente nuovo che mi ha detto mandami 100 euro, 150 euro di dischi jazz a tuo piacimento e io gli ho detto no. Ho detto ma come mai, perché mi dici di no? Perché io voglio fare bella figura. Io non voglio che uno parta da Bologna, per esempio oggi, e venga per comprare del jazz che di jazz non c'è praticamente quasi nulla. E qua andiamo alla nota dolente, molti mi chiedono ma come mai il Planet ormai non tratta più il vinile nuovo? Io che invece negli anni d'oro ne ho venduti veramente camionate. Ma attenzione, io vendevo i dischi jazz, per esempio il cosiddetto catalogo fantasy, quindi le ristampe del grande jazz anni 50 e 60, dove è ormai condivisione, lo sanno tutti, ci sono i capolavori assoluti. Quindi Riverside, Prestige, Verve, Fantasy, Blue Note, tutte ristampe che si vendevano in vinile alta qualità, veramente alta qualità, 180 grammi, a volte addirittura dai master originali, però si vendevano, finché c'erano le lire, mi ricordo ancora, 28, 30, 32 mila lire, e anche gli S&M, i vinili meravigliosi, costavano 28, 30 mila lire, col cambio dell'euro per moltissimi anni ho venduto degli stampi americani di jazz a 15 euro. Quindi una cifra che ti permette di ascoltare Sony Rollins, Coltrane, Bill Evans Trio, anche per dire Stangeth, George Gilberto, piuttosto che la West Coast, che io adoro, ma anche il Free Jazz che ha venduto pochissimo all'epoca e che venne tutto ristampato, ma finché tu una ristampa la paghi 13, 15, 18, ok, dici tanto l'originale su disco GS costa una cifra folle, poi magari non è neanche tenuto benissimo. Quindi una stampa americana o nella seconda ipotesi tedesco-olandese, che comunque non sono così male come dicono, alla fine a quella cifra ci poteva stare. E il problema è che anno dopo anno, questa cosa è partita dal 2010, non è stata una curva normale, è stata una parabola, una curva logaritmica, dove io dal 2010 a oggi siamo arrivati ad avere i vinili, per me, improponibili. Vi faccio un esempio stupido, l'ultimo di Bjork, artista che io ho sempre stimato, a me colliva 40 euro, doppio vinile. Beyoncé, c'è lei in copertina, su questo cavallo, praticamente lei seminuda, una copertina meravigliosa, con tutto rispetto per Beyoncé, una grande artista, ma triplo vinile, a me 60 euro, il Planet decida di lasciarlo là in magazzino. E il motivo di fondo qual è? Che tu arrivi qua con 60 euro e molto probabilmente porti via 4, 5, 6, forse anche 7, 8 dischi, capito? Per non parlare poi dei CD, dove abbiamo migliaia di CD, li avete visti i mobili fuori, il famoso 3x10, 5x15 e 7x20. Cioè ti do 7 CD garantiti per 20 euro. Quindi è chiaro che alla fine poi chi arriva a un budget, tu puoi avere anche 20 euro di budget, 30 euro di budget, o ragazzi giovani che hanno quel budget, cosa fanno? Si prendono la ristampa o la novità di, a 30 euro, oppure 2-3 dischi originali, oppure ristampe anni 80, però di grandi classici. Certo, certo. Ascolta, iniziamo ad andare un po' in giro per il negozio, dai, vediamo un po' come è sistemato. Allora, io ho messo in cordice alcuni dischi che capitano veramente spessissimo, anche, non so, questo storico di Stevie Wonder, WLP con dentro il 45 giri il libro. Ti dico la verità, almeno una volta ogni mese, mese e mezzo capita, ma così come altri album storici, penso anche ai Pink Floyd, ai Queen, ai Genesis, per non parlare anche degli anni 80. Per esempio, un mese e mezzo fuori, è levata una collezione di anni 80 veramente clamorosa. Tutto il meglio, Rem, Dream Syndicate, Ticulti, Cure, tutta la roba New Wave, Dark, Gothic, quindi Bowhouse, Joy Division, Echo and the Bunnymen, Suxy and the Banshees, tutti i gruppi che adesso sono tornati molto in voga. Quindi anche i ragazzi giovani non cercano più solo la storia 60-70, ma anche 80-90, perché ovviamente siamo nel 2022. Però il problema qual è? Molto spesso mi chiedono, ma gli anni 90 non ti arrivano mai? Ragazzi, gli anni 90 il vinile ormai non c'era più. Veniva stampato in tirature bassissime, e io lo so bene perché appunto ho aperto nel 94, quindi io prendevo magari Red Hot Chili Pepper, Metallica, Soundgarden, Nirvana e Continua Tu, Massive Attack, Portished, e però ne prendevo ovviamente un po', ricarico ragionevolissimo, e venivano venduti. Chi poteva immaginarlo? Cioè nemmeno io potevo immaginare un così spaventoso ritorno al vinile. Oggi quei dischi valgono, pensa, un sacco di soldi, perché negli anni 90 sono stati tirati in tirature bassissime. Un esempio proprio sciocco, te lo posso far vedere, Brian Adams, un artista che ha venduto milioni di copie negli anni 80. Questo, per esempio, è un disco del 96, non è facile da reperire. Infatti è uno di quei rari casi in cui magari metto una base d'asta, perché su Discogs viaggia addirittura una cifra molto elevata. Però onestamente non credo che questo possa essere un disco che possa essere venduto a 100, addirittura c'è uno che lo vende a 180, siamo veramente nel delirio. Io credo che questo qui andrà via probabilmente appunto sui 30-40 euro. E tieni presente che è già un prezzo altissimo per il planet. Cioè io stamattina ho messo via un Beatles originale, prima stampa di Age Hood, immacolato, venduto a un cliente che viene a ritirarlo, 30 euro. Oppure, tanto per farti capire, una stampa di questa bella raccolta è Collection of Beatles Oldies. Questo non è l'originale del 66, è la ristampa del 70, però in splendide condizioni, e vedi che io lo metto a 18 euro. Che, attenzione, c'è quello che dice, no vabbè, ma a me non interessa niente, io prendo la ristampina adesso in rete e spendo magari 18, 20, 21. Ma onestamente anche se io non sono definibile come collezionista, tratto con tantissimi collezionisti amanti della musica, ma a me interessa ascoltare bene. E qua apriamo il capitolo fondamentale. Molto spesso la gente mi dice, ma com'è possibile che tu vendi i dischi con la garanzia, perché so da chi compro. Per me fare 700 chilometri, come due domeniche fa, andare a Grosseto, ha senso, perché mi fanno vedere nei filmati le copertine, e già li vedo molto, poi mi fanno vedere i vinili, se no chi me lo fa fare? A parte il bruciare l'autodomenica, ma fra diesel, autostrada, quello che costa oggi, e d'altronde chi è che ti spedisce 8-10 cartoni di materiale, costo... Che tanto gli dischi costano tanto, che vedono pesanti, costoso. Quindi chi è che spende 100 euro, anche se tu gli dici, guarda che dopo io, quando ti faccio il bonifico, ti ti pago. E poi comunque, onestamente, è vero. A volte bisogna fidarsi. Però ti ripeto, io sono stato a Palermo, a prendere una collezione di mille dischi jazz, da una signora, che ho avuto fiducia, mi ha detto, guardi, mio marito era una persona squisita, ovviamente spesso accade questa cosa, parliamo di era, quindi i dischi vengono appunto venduti al planet perché non c'è più nessuno che li può apprezzare e questo è un grande rammarico. Hanno piacere, al di là ovviamente dal risvolto economico, che trovare uno che ti prende mille, mille e cinquecento, ma anche fossero solo cinquecento dischi, trovare qualcuno che ti prende la collezione pagandole in maniera equa e onesta, non è facile. Certo, certo. E io sono andato a Palermo, poi da là mi sono spediti e ho fatto la gioia degli amanti del jazz, perché questo era veramente un fanatico del grande jazz a partendo dalle big band, passando per tutto il Bebo, per il Postbo, quindi Charlie Parker, poi Vice Davis, Coltrane, tutti grandi, fino all'ESCM, quindi Pat Metinic, Jared e cose di questo tipo. Qui quando tu rilevi le collezioni, diciamo che gran parte delle cose è quando le metti subito qui, su Facebook. Assolutamente, io faccio la foto, poi attenzione, proprio per anche dire, un attimo, però c'è il negozio fisico, nel video, per esempio, che ho fatto giovedì mattina della settimana scorsa, non l'ho fatto vedere tutti i 60 i dischi, li ho fatti vedere alla metà. E l'ho proprio detto, se no che gusto c'è? Se tu arrivi e sai già cosa trovi, stessa cosa per la classica, dopo andiamo di là, io avevo fatto la foto ai cofanetti di LP di classica e ho fatto un breve video, però per esempio i cofanetti di Lirica, che erano 80, li ho inseriti nel sito e si vedono nel sito. Ecco il sito, che è la vendetta del disco nero.it, contiene 32 mila pezzi e sono commentati praticamente quasi tutti a uno a uno. Però, mentre appunto i CD ci vanno a tempo di record, per esempio questi sul bancone, di solito sono CD arrivati negli ultimi 7-10 giorni. Anche lunedì, per esempio, ho preso una collezione dove ho scelto 350 superclassici, di rock 70-80-90, da un grande collezionista, classe 1954. Io dico sempre l'anno perché sapendo quando è nata una persona, più o meno puoi capire, sì, puoi capire che musica... Ecco, lui aveva più di 1000 CD, io gli ho spiegato, non ti offendere, ma magari certe cose pop, certe cose italiane, le ho già cinque volte, con tutto rispetto, li vendo io a 3 euro, quindi magari per far bella figura, pagarti un pelo meglio, magari ti prendi 350 più interessanti. Quindi è chiaro che chi arriva al Planet, questa roba qui la vede qui, ma nel sito non c'è. Poi a tempo di record, quindi vuol dire una settimana, massimo 10 giorni, la roba viene inserita nel sito, ma i vinili oramai non riesco più, cioè non riesco semplicemente perché poi magari il sabato che c'è l'ario continuato, arriva gente appunto anche da fuori provincia, da fuori regione persino, e di massimo il materiale viene saccheggiato. Certo, certo. Allora, quindi entriamo dentro al Planet, il Planet ha l'ingresso qui, e troviamo subito, qui che dopo ne parliamo, così finiamo la zona sinistra. Certo, qua abbiamo un CD di musica classica, immaginavo, vedendo le copertine, e là i cofanetti di CD di musica classica, poi abbiamo le colonne Grandi Boss, quindi c'è la colonna di Mozart, la colonna di Beethoven, e poi qua isolato, per manifesta e superiorità, Sua Maestà, il più grande di tutti, Johann Sebastian Bach, che io onestamente, da pianista e organista canne per passione, perché l'organo a canne l'ho studiato per conto mio, Bach è il più grande di tutti, e poi abbiamo la colonna invece, monotematica, di Giuseppe Verdi, che ovviamente, essendo in Emilia, è sempre molto corposo, perché quando rilevi le collezioni, bene o male, Giuseppe Verdi c'è sempre. C'è sempre. Poi sempre nella sala 1, non l'abbiamo detto, però adesso ci sono tantissimi giovani, che appunto riscoprono il vinile, per fare anche proprio il DJ, no? Qui hanno capito che si perde qualcosa con il PC, e anche con i lettori CD, che ormai, PC DJ, ormai i CD li adoperano, c'è chi li adopera. Però poco, vero? Ma adesso vedo che va molto il computer, perché ovviamente è molto comodo, perché tipo... Usando le console tipo quelle della Pioneer, che lo tagga il computer, che butti dentro. E col computer, sai, è molto comodo, perché praticamente c'hai tutto, in teoria, e senza far fatica a spostare le valigie, che chi ha una certa età, e chi faceva il DJ lo sa bene, pesano veramente tantissimo. Ci sono 5 pareti di mix anni 80-90-2000, e poi una parete che è molto molto apprezzata, che è questa. Qua, adesso appunto c'è sempre un po' di confusione, perché questa è una parete invece dove sono mix, quasi tutti originali UK-USA, di anni 80. Quindi mix di, per esempio, Bangles, Banana Rama, gli Essosate, Madonna, Bronsky Beat, Common Heart, Boy George, i Culture Club, gli Inex S, piuttosto che i Simple Mind, i Simply Red. Ecco, immaginate proprio gli anni 80, e i 12 pollici piacciono molto, oltre che ai DJ, piacciono molto perché hanno appunto uno o due pezzi per facciata, e solitamente proprio per questo la dinamica è molto molto alta e suonano molto bene. È chiaro che li adoperano ancora molto i collezionisti, perché ci sono spesso nel lato B degli inediti, che non ci sono negli album, e tieni presente che a volte certi artisti importanti facevano addirittura tre o quattro edizioni in 12 pollici, quindi il vero collezionista che voglia avere per esempio tutto degli Everything But The Girl, in realtà dovrebbe avere di ogni album che è uscito anche i due, tre, quattro singoli, perché nel lato B ci sono queste cose. E ascolta, dietro di te vedo anche DVD, perché il Planet non è solamente disc, giusto? questa è una cosa che è partita per scherzo, come anche i libri, ne parleremo dopo, esatto, e qua vanno dalla J alla Z, e nell'altra parte del negozio invece vanno dalla A alla J, e quando... esatto, bellissimo questo lavoro, esatto, eh sì, perché ovviamente non potevo andare addirittura più su, e questa è una parete che ho sacrificato recentemente, qua prima c'erano tutte copertine di dischi, erano... poi alla fine ho visto che comunque molta gente apprezzava l'idea, perché poi certi DVD magari vanno fuori catalogo, vendendolo sempre con la garanzia, quindi salta il DVD, esattamente come se salta il CD, metti anche che salta una traccia, io te lo regalo, e ti do i soldi indietro, oppure un buono per comprare qualcosa di altro, in questo modo la parola usata perde un po' di senso, e alla fine sono oggetti questi qua, che anche questi sono dentro al sito, ho notato che chi ama la musica spesso e volentieri ama anche il cinema, ma l'abbiamo visto anche noi, che dei nostri clienti che hanno comprato dei super impianti, dopo ci hanno chiesto il lettore DVD, Blu-ray, perché ogni tanto... e guarda caso anche Blu-ray, e ne scherzando, per essere un negozio comunque non specializzato, praticamente ne abbiamo alcune centinaia, ma perché effettivamente il film ormai lo sappiamo tutti, i film sono reperibili in rete, Sky, Netflix e quant'altro, insomma non c'è bisogno che ve lo dica io, però avere il film che magari per te è rappresentativo, te la butto lì, The Blues Brother, piuttosto che Il Grande Le Boschi, piuttosto che io adoro Miyazaki, questo genio dei cartoni animati che in realtà sono film più che cartoni... tutta la filmografia, io dico che alla fine ha sempre un senso avere l'oggetto, ma proprio perché probabilmente io sono di una generazione al quale parlare di qualcosa di smaterializzato a me fa molto sorridere. Sì, sì, è vero. E poi dopo andiamo avanti invece di qua. Sì, allora qui c'è un piccolo reparto di graphic novel, ma questo semplicemente perché sono io un grande appassionato e graphic novel non è altro che il romanzo a fumetti che ha avuto negli ultimi anni un'escalation clamorosa, ma qua veramente parliamo proprio di pochissima roba. Fortunatamente a Reggio ci sono librerie molto importanti, non ne nomino una perché le conosco tutte dopo le nomine tutte. Dopo le offendi, diciamo, per non offendere nessuno. Ecco, diciamo che a Reggio ci sono almeno cinque librerie significative con dei reparti graphic novel belli. Io alla fine un po' vado a traslare quelle che sono le mie passioni, quindi quando mi portano il materiale oppure vado io a casa dei privati hanno piacere a dire se mai guarda aggiungi qualcosa e porti via anche questo perché poi l'alternativa è molto triste ma è mercatino delusato dove però alla fine la roba viene venduta in minima parte e poi è triste da dire ma va a finire in discarica e ancora oggi io soffro, proprio mi viene l'ansia, mi si chiude l'occhio come l'ispettore Dreyfus nei film di Peter Sellers quando arriva la gente che mi dice aver saputo che c'era lei ho buttato in discarica 200 dischi degli anni 60-70 di mio padre quello ce lo dicono tanti anche noi ci dicono ma li ho buttati via allora io io lì veramente perdo la testa perché dico sempre ma io non ti dico che non devi andare in discarica ma prima vieni qua dove una persona gratuitamente ti dice questa roba muffita questa roba segnata questa roba rigata vai tranquillo in discarica ma metti che ci sono anche 10, 20, 30, 40 dischi belli, tenuti bene come visto che ne stiamo parlando proprio l'altro giorno sono arrivati dei 45 giri io ti sfido a trovare i 45 giri oggi immacolati di solito i 45 giri li trovi sempre macinati perché perché questi cosa si succedeva si portavano alle feste si prestavano entravano nei terrificanti mangiadischi che erano e là c'è il Minerva molto comodo perché ovviamente lo portavi però ogni volta che entrava o per non parlare delle terrificanti fanno valigie che erano veramente gli ammazzadischi più incredibili quindi quasi tutti i giorni qua viene gente a vendere fortunatamente ma io cercando di essere anche abbastanza delicato ecco perché poi qualcuno si può offendere spiego che i dischi quando hanno la copertina strappata e il vinile che non è tenuto bene e anche cerco di spiegargli che semplicemente io vado avanti per questa strada di garanzia totale ma non è l'unica io spiego che chi fa i mercatini della domenica mattina piuttosto che magari fiere di settore e ha magari lo spazio per vendere materiale non perfetto magari a pochi euro adesso c'è anche mercato per quello cioè ti compra i dischi con frusci con segni io onestamente dopo averli lavati se c'è appena appena qualche cosa veramente di piccolo li vado a mettere tipo a metà del valore o addirittura lì dove sono nel 3x10 quindi qui davanti ai 3x10 sono dischi che vendo a 3 euro ma voglio dire sono dischi che chiaramente io non metterei mai sulla mia puntina da 100-150 euro ma se come molti miei clienti hai fatto l'impianto di serie B geniale questa cosa perché magari il nonno o lo zio o il padre gli aveva lasciato dei dischi un po' come dire non proprio spettacolari hanno l'impianto di serie B dovevano comunque a generare un bel beneficio a livello emozionale perché comunque i 45 giri di quando calienta al sol siccome è il primo che io misi su quando ero bambino a me mi si spezza il cuore e anche se magari c'è un po' di fruscio mi ricorda quando magari mio nonno mi teneva in braccio ecco quindi dopo si va a parlare di qualcosa e io lo dico sempre è un gesto che faccio sempre io mi guardo in tasca e verità non ne ho cerco di ascoltare tutti qua vengono gli audiofili quelli con gli impianti presi da voi magari a svariate migliaia di euro ma vengono anche i ragazzi giovani che cominciano adesso che magari seguono il vostro video un bel impianto con mille euro e io questo lo spiego sempre perché loro mi dicono ma però Emanuele io ho guardato ma però ci vuoi per fare un buon impianto lettore cd giradischi casse amplificatori ma mi sembra di capire che meno di 3 4 5 mila euro non riesco a spendere con mille euro si fa e allora io giustamente gli dico aspetta intanto se mi parli di nuovo ma se tu prendi dell'usato un buon usato garantito da gente professionale come voi che c'è da tantissimi anni e che quindi vende giustamente con la garanzia io onestamente qualcosina capita noi secondo me guarda abbiamo fatto anche degli impianti da 400 anche con delle volte meno tutto è chiaro che non bisogna avere dopo perché tanti cosa succede hanno le pretese che dicono no voglio il bluetooth voglio il diffusore di colore di questo tipo assolutamente però ci si riesce io faccio proprio questo esempio molto sciocco ovviamente io ho molta roba quando mi dicevano mi prendi anche l'impianto mi dice aggiungi tot io sentivo il nostro carissimo amico esperto Enrico che è santo uomo che veramente che non vuole fare i video con me ma con nessuno no con nessuno ma certo mica solo perché sono io però persona squisita io chiaramente chiedo a lui cosa mi dici e per esempio queste due casse che vedete qua impiccate in posizione oscena sono state laccate perché ovviamente il vendicatore del disco nero cioè che sarei io leorese laccate nero perché nero va più forte queste sono le mitiche Celestion le Ditton 66 che sono casse che hanno fatto la storia adesso qua c'è collegato un Onix che fa secondo me la sua porca figura però quando i ragazzi entrano qua e mi dicono ah però come si sente bene ma ce l'ho anch'io i Polissimo non suonano mica così e chissà mai quanto no sbagliato queste sono casse che fino a qualche anno fa in rete le trovavi sui 1000 adesso viaggiano a 1500 ma stiamo già parlando di roba che un mio cliente che fa il direttore di banca mi ha detto io adoperai due dei miei stipendi nel 75 per comprarle è vero non è che la roba una volta non costava è quello che diciamo sempre anche noi non è che non costava è che forse uno aveva quell'obiettivo quindi comprava quello metteva da parte quella adesso uno magari ha l'iPhone il computer e dice cavolo però costano come un iPhone perché sono tante spese insieme allora uno fa questo ragionamento ma noi ne parlavamo ho fatto un video un reel tra l'altro proprio dove parlavo del prezzo come era rapportato parlavamo delle GBL le 43 si l'ho visto un bel video le 33 che costavano quasi come una golf cioè al tempo quindi per far capire che il rapporto è quello lì più o meno allora è normale che nell'usato io per esempio ho dei cofanetti di lirica di cui vado molto fiero perché appunto la lirica è un mercato comunque veramente appassionati qua ci sono dei cofanetti con dentro 3-4 dischi originali tra l'altro Becca Philips Archive Telefunken i Deutsch che comunque non vanno così male qua sono cofanetti con dentro 3-4-5 dischi che si vendono a 9-11-13 euro oppure Wagner il cofanettone con 19 LP più libro qua purtroppo è appena 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 ha subito l'ingiuria ma dentro i vinili sono pari al nuovo questo per esempio è un cofanetto con 19 LP più libro che io propongo a 45 euro quindi stiamo parlando di tipo 2 euro 2 euro e mezzo a disco quindi alla fine non è che necessariamente bisogna svenarsi sul vinile questa è un'altra un po' la cosa che cerco di sfatare sempre perché la gente mi dice ma io sono andato qui là a fiera del disco per dei dischi di Johnny Mitchell piuttosto che di Janis Joplin per delle stampe anni 80 quindi stampe successive degli ACDC o degli Iron Maiden mi hanno chiesto 30 40 50 euro e io dico sempre ma ragazzi voi avete un grosso vantaggio oggi avete la tecnologia quando eravamo giovani noi c'erano i record collector i manuali c'era praticamente le fiere del disco ma non c'erano dei supporti che ti potessero dire guarda che questi dischi valgono così sì esatto adesso con la tecnologia con disco GS con la rete con lo scambio di informazioni basta studiare è chiaro che non bisogna fermarsi io davanti a una collezione questa mi piace citarla perché fa anche capire un po' come ragiono io cinque anni fa quattro anni e mezzo fa sono entrato in un appartamento di Bologna dove onestamente mi è come si dice a reggio diciamo ti casca la faccia in terra praticamente immagini una sala come questa dove non si vedevano le pareti erano solo libri una quantità folle di libri cd ma soprattutto più di 6.000 dischi country country folk bluegrass ruth e american music non c'era un disco di country rock quindi per intenderci non c'era nei young lì cosa fai io che vengo ascoltato di tutto ho suonato classico ho suonato jazz ho studiato una vita di country non sapevo quasi niente allora cosa fai prendi un paio di persone fidate carissimi amici plane competenti prendi manuali i libri più interessanti anche su consiglio loro io per un mese e mezzo due non ho fatto altro che leggere e documentarmi sul bluegrass sul western swing sul country e ho dovuto fare mea culpa stendermi inginocchiarmi davanti a degli artisti formidabili perché noi cosa pensiamo pensiamo al country a certi artisti che non nomino ma avete già capito quali sono che in realtà sono magari country pop sono star mondiali ma non è niente a che vedere con il bluegrass il russ il folk il bluegrass per esempio è quasi più imparentato più col jazz che non con il country perché c'è un tanto un virtuosismo pazzesco suonano banjo dobro chitarra sono musicisti formidabili e sono dischi originali americani che poi io cosa feci grazie a questi due carissimi amici selezioniamo 1300 lp scelti su 500 poi cd li prendiamo tutti e i libri ne prendiamo 300 tutti ovviamente in lingua in quel momento arrivarono gli appassionati da tutta Italia e in quel momento probabilmente a detta loro eravamo uno dei negozi più forniti d'Europa di quel materiale hai capito la mia clientela fortunatamente la conosco è aperta di vedute moltissimi vengono qua sono curiosi quando vedevano gli originali americani con la spiegazione di chi erano qual era la loro storia dischi comunque prezzati 8 9 7 giusto qualcosa di un po' più raro magari è stato messo a 11 13 ma solo perché era magari un disco quotato sui 20 25 praticamente è stato venduto quasi tutto che sembra sembra pazzesco perché comunque siamo a Reggio Emilia non siamo a Austin Oklahoma capito è una cosa curiosa però questo denota secondo me anche il fatto che vai in un negozio puoi ascoltare leggi i commenti parli con quello di fianco che invece magari ne sa più di te certo quante amicizie ho visto nascere io qua infatti due impianti vedi adesso questi qui che magari li facciamo vedere un sacco di persone capito arrivano e si mettano a chiacchierare perché ascolti ovviamente non è niente di audio file perché ci manovrano anche i ragazzini io penso che meglio che sia così sicuramente ma soprattutto perché sono puntine da 15 euro ovviamente ogni due o tre mesi mi tocca di cambiarle perché chiaramente me le usurano capito di là invece c'è sicuramente un impianto un po' più vai dai andiamo anche di là tanto che ci siamo ecco qua allora vabbè qua ci sono sempre le riviste appena uscite e qua c'è sua maestà questo è infatti ci sono clienti che me lo stanno puntando oramai da anni da quando è arrivato questo è sua maestà il Technics Quartz l'SP25 che è sicuramente veramente un bel gioiello tra l'altro collegato a due casse autoprodotte queste le presi nel 94 appunto da un negozio di Reggio che adesso non c'è più purtroppo però l'ingegnere da questo Emore fece queste casse che devo dire davvero quando io faccio sentire l'impianto restano tutti a bocca aperta o nonostante le stia spingendo un amplificatore che non è niente di che sì un di quei carinissimi Pioneer sono sempre belli ma è voluto perché io non tengo a parte non è proprio il mio mercato ma io cerco di far capire alle persone che comunque quando il vinile è tenuto bene stampe ottime tenute bene a posto con un ampli e due casse e un giradischi hai grande soddisfazione senza appunto come dicevamo prima spendere delle follie bellissimo questo qua chiunque venga sorpreso ad incasinare dischi senza rispettare l'ordine e il lavoro lungo faticoso del planet verrà espulso dal negozio purtroppo ma allora lì si apre un capitolo chi mi mette Donna Summer alla D lo capisco che non sta facendo a posta già un po' più perverso quando magari me lo mette alla Love di Love to Love You Baby cioè dovreste saperlo che quello è il titolo e non è il cognome ma anche Donna Summer alla S ma dentro al jazz lo capisco che non è cattiveria comunque continuando sempre la descrizione qua abbiamo i CD Jazz con sotto sempre il 3x10 perché comunque ogni reparto del planet ha un sottoreparto di 3x10 5x15 che ovviamente è mischiabile queste invece sono le famose casse tutte le casse che vedete sono state praticamente disegnate e fatte con gli stencil da Silvia che salutiamo che è mia moglie la mia compagna senza la quale il planet non esisterebbe ma soprattutto senza che lei se lei non venisse ogni mese a tenere d'occhio la situazione onestamente non si entrerebbe nemmeno perché lo vedo che tu sei un bel accumulatore appassionato di tante cose ma allora io sono un accumulatore per quale motivo perché quando mi portano per esempio appunto qua c'è vabbè dopo andiamo avanti qua ci sono i CD italiani le monografie quindi Mina Vasco Ligabue Baglioni e la Pausini siccome sono artistiche magari se ne accumulano parecchi se no questi sono i CD italiani normali qua abbiamo i CD rock qua c'è un turnover molto significativo ovviamente i CD sono vuoti chiaramente il nostro antitaccage è quello e infatti le custodie sono vuote quindi per ascoltarmi devi chiedere e io te li faccio ascoltare poi il metal CD metal anche qui c'è abbiamo tantissimi clienti alcuni anche metal vedo che c'è tanto interesse perché tutte le volte che metto un video magari che vado da Marcello così tutti chiedono metal allora diciamo che il pubblico metal non necessariamente giovane perché io sono un ex metallaro convinto e tuttora ascolto i Dream Theater gli Aireon che sono uno dei più grandi gruppi progressive metal secondo me degli ultimi 25 anni io tuttora ascolto ancora cose ma anche l'hard rock storico e i ragazzi giovani e i ruffoni e i ruffoni lui guarda sepoltura sempre tutti quei che c'è l'evellino io all'estremo io mi fermo diciamo agli iron barra metallica ecco oltre non vado però quello che voglio dire i ragazzi giovani si accorgono che il file non basta cioè si capiscono proprio che e lo vedi anche dal successo che hanno queste edizioni che stanno facendo nelle edicole proprio in questo momento c'è i 100 album storici di hard rock prima hanno fatto i 100 album storici jazz adesso stanno facendo che tra l'altro di agostini c'è anche sponsorizzato sole ritmo in blues e devo dire che molta gente dice ascolta io tanto quando mai troverò a 15 o a 16 euro un vinile dei metallica tenuto bene la ristampa costa già molto di più in magazzino la pago io 20 euro o 18 euro quindi alla fine ben vengono queste iniziative se avvicinano i giovani al vinile è chiaro che ecco anche nel metal e nell'hard rock vale un po' il discorso del jazz se non è arrivata una collezione dai miei post non venire al planet per il vinile metal perché assolutamente non ti accontenti in questo momento c'è abbastanza roba come cd ma anche qui è puramente casuale un anno fa mi capitò un cliente che mi disse guarda mi sono stancato trasloco vado a stare nel piccolo mi portò 800 cd tutto death metal black metal doom metal funeral depressive metal che solo a dirlo ti viene la pelle d'ora e ovviamente in quel momento ho fatto la gioia degli appassionati di quel genere è un po' lavorare nell'usato è normale che sia così è come da noi magari c'è un periodo dove abbiamo tante GBL un periodo dove non ce ne sono c'è della gente che viene in negozio sto cercando delle GBL ma come non le avete usate purtroppo in base al periodo ce n'è di più o di meno dei marchi delle cose delle altre è normale che sia così è proprio così e qua invece c'è appunto questo reparto che sicuramente è uno dei più amati insomma la musica classica questi per esempio sono proprio i dischi di cui vi parlavo prima quelli che ho preso appunto sono andato a Grosseto e ovviamente non ci sono più Deca fase 4 i Philips ormai non ci sono più gli Archive però questo è il discorso quando tu prendi un Telefunken in queste condizioni lo metti su video originale del 79 tra l'altro vabbè Mozart concerti per piano orchestra siamo nel delirio e riesci a prenderlo con 9 euro alla fine tu vai a casa ascolti qualcosa di straordinario sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista della qualità sonora poi ci sono anche altre etichette per esempio qua aveva anche per esempio dei Suprafon dei Melodia degli Ungaroton che sono stampe dell'est che secondo molti non sono proprio il massimo della qualità allora dipende come sono stati tenuti perché se questi sono dischi tenuti bene alla fine onestamente a 5-7 euro comunque ti porti a casa qualcosa di veramente bello è chiaro che se invece il vinile è stato ascoltato molte volte magari con una puntina sbagliata è un po' come gli emi italiani o come certi rca italiani la qualità degli anni 70 un pochino era inferiore magari perde un po' poi un altro reparto molto importante è quello dell'elettronica degli anni 90-2000 quindi generi come break beat broken beat big beat drum and bass jungle trip hop o semplicemente electro electro house questi sono gli arrivi di ottobre lì invece abbiamo le colonne sonore un po' di afro reg e poi per esempio in questa scatola che vedete qui questi sono proprio arrivati l'altro giorno e tutta roba molto bella sono 12 pollici oppure doppi vinili sempre dello stesso genere però anche qua parliamo di roba a volte anche recentissima però sempre a cifre 5 euro un mix immacolato originale UK oppure un vinile a 9 11 13 che comunque diventa sicuramente appetitoso e poi Manu questo chi ci segue su su facebook l'ha già visto di là hai una zona dove fai anche il lavaggio dei vinili sì assolutamente magari è interessante questa cosa che la vediamo assolutamente vi accompagno questa è è una sala che ovviamente è in grande sacrificio perché è quella dove ci sono i 45 giri che scendono fino in fondo sono svariate migliaia 45 giri è un bel mercato e quindi onestamente io lo seguo fin da quando fin da quando ho aperto questa è la VPI modificata da questo ingegnere che si chiama Carlo Morsiani che purtroppo ha smesso di costruire piatti e l'ha montata su plexiglass in modo che non marcisce il legno perché dopo migliaia e migliaia di lavaggi sì soprattutto come lo fa commentare è chiaro la VPI è normale assolutamente ci inginocchiamo è un grandissimo oggetto però purtroppo il legno migliaia e migliaia di lavaggi magari a forza di bagnarsi un po' si imbarca e poi soprattutto c'è il bidone aspiratutto che ha molta più aspirazione rispetto a quello che può essere l'aspirazione normale in questo caso ovviamente cosa fai vai a aspirare il liquido che ha sciolto tutta la polvere le ditate io di solito ci passo anche col pannetto pulito per far prima perché altrimenti ovviamente quando devo lavare magari 50 100 dischi e quando entrano gli anni 60 70 chiaramente per rispetto anche all'oggetto magari vedo appena un po' di ditate qualche grandino di polvere io per rispetto lo vado a lavare poi così almeno so che torna al massimo possibile e anche perché finché non lo lavi non potrai mai sapere se il disco frigge perché è sporco o se il disco frigge perché il solco è stato ingiuriato da una puntina rovinata dell'epoca certo quindi se quanta gente viene che mi dice ma poi non è che possiamo lavare questi dischi ma io dico te lo lavarei anche volentieri ma il disco sembra nuovo se frigge vuol dire che il solco è stato rovinato quindi questo è un servizio che lo diciamo anche perché magari qualcuno viene che fai anche per i clienti sì assolutamente lavare i dischi costa un euro però prima contattatelo ma soprattutto prima io li devo vedere non ti lavorano mai dei dischi rovinati viene della gente con dei dischi che sembrano sinceramente masticati dal cane o tenuti sul tavolino così come se fossero frisbee e ovviamente non ha senso oppure dischi ammuffiti la muffa nemico numero uno tantissima gente proprio ieri l'altro è venuto un signore con dei dischi meravigliosi a me dispiaciuto Genesis King Crimson Pink Floyd Van der Graf Generator Jet Rotal dischi anche prime stampe io lì sinceramente soffro torniamo sai che mi si chiude l'occhio come l'ispettore Dreyfus dei film di Peter Sellers veramente ho sofferto ma tutti tutti con i punturini di muffa gialli niente da fare non te li lavo perché so già che non otteniamo nessun risultato e poi qua finiamo con tutti dei libri sì allora i libri anche lì non avrei lo spazio ma è una cosa che mi piace troppo soprattutto quando trovi i libri a casa delle persone copertine rigide quindi anche spesso e volentieri mi portano libri recenti quindi libri che tuttora sono a prezzo pieno alla fine tu vai a fornire questa roba tra l'altro è tutta dentro al sito è sempre nel sito ovviamente metti libro viene fuori il listone con 3500 libri mentre invece lib spazio mu sono i libri musicali che sono sui 6-700 credo però anche questo vedi devo dire il sabato orario continuato vedi anche queste cose curiose magari lui e lei lui che guarda i dischi lei che viene qua sposta perché tutto è su cariolino ovviamente perché è tutto in doppia fila quindi il plan ci siamo dovuti inventare chiaramente queste cose e vedi capito magari lei che prende la scala guarda e alla fine passano il tempo e poi ecco un'altra cosa interessante queste sono tutte scatolette piene di musica 7 anche questo è un mercato curioso che le stanno provando a far ritornare stanno facendo le ditte nuove fanno anche la cassetta lì ho letto anche sui commenti quando faccio i post con le musica 7 anche a me escono dei commenti divertentissimi e il problema non è stare a discutere chi ha ragione abbiamo tutti ragione perché se tu sei cresciuto con la cassetta ti piace come oggetto ti piace il feticcio soprattutto se lo porti via a 2-3 euro io ti posso vendere a 3 euro una cassetta originale dei Queen o dei Pink Floyd se tu ci sei cresciuto oppure certi artisti italiani che magari non ti interessa avere il cd però la canzone ti ricorda qualcosa alla fine è proprio divertente detto questo con una buona piastra non devo dirlo io a voi lo sapete benissimo con una buona piastra una cassetta tenuta bene suona bene ma tanti sai cosa ci dicono anche i dat sì assolutamente dei dat quindi tanti ci continuano a dire che spesso sono anche superiori al cd tanti nostri magari gente che hanno la camicia dragon o comunque insomma delle belle piastre assolutamente io a Manu direi che abbiamo risposto diciamo in maniera abbastanza interessante sul perché i negozi di dischi hanno ancora senso nel 2022 lunga vita io devo dire a tutti i negozi di dischi ai negozianti chi porta avanti questa passione e continua a portare avanti che per me la passione insomma tutto ciò che è musica arte è bellissima io chiudo dicendo solo questa cosa che mi preme veramente tantissimo io leggo appunto tanto quello che la gente scrive anche quando commenta i post nostri che comunque ridendo e scherzando anche noi siamo arrivati a 6500 ho visto che hai un grande seguito 6500 follower voglio dire io non ho mai speso un soldo e comunque non ho mai detto venite al planet perché c'è una mega offerta no io vi faccio vedere cosa arriva poi la gente addirittura c'è la rubrica i dischi della vita ci sono arrivato al numero 180 sono semplicemente dischi dove io ti punto un faro e ti dico non lo conosci occhio secondo me stai perdendo qualcosa ecco io trovo che il senso del negozio sia quello ormai è esattamente l'opposto dell'acquisto con il click perché tu sai cosa vuoi clicchi e lo compri io vedo qua la frase che mi dicono più spesso le persone è ma pensa te ero venuto perché volevo andare a casa con delle cose di poi però ho visto quest'altra roba qui e ho preso questa roba qui quindi alla fine gli ascolti sono ciclici io lo dico sempre ho suonato per una vita classica poi ho suonato per una vita jazz e adesso ascolto un sacco di musica sacra però ascolto anche il progressive metal ascolto Eva Cassidy alla fine perché richiudersi in un piccolo orto in un piccolo giardino tutto bello sprangato e per tutta la vita resti sempre lì che sia il prog che sia il southern che sia l'hard alla fine la musica c'è così tanta roba bella che mi sembra veramente sciocco incancrenirsi con sempre i soliti artisti sempre le solite cose è chiaro che comprare la roba a 20-25-30 euro poi magari fai un passo falso disturba poter venire qui dove ci sono 4 impianti ti riempi il cd oppure i vinili fai da te puoi ascoltare tutto quello che vuoi e alla fine ti compri quello che ti è piaciuto sicuramente è un'esperienza che non ha credo niente a che vedere con l'acquisto solitario dal tuo pc a casa ragazzi noi vi ringraziamo per averci seguiti se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace al video seguite Emanuele sulla pagina Planet Music di Facebook e noi vi aspettiamo il prossimo video un saluto ciao